buongiorno da btv news oggi 22 dicembre santa francesca cabrini nella notte tra 21 al 22 dicembre si celebra il global orgasmo for peace day giornata mondiale dedicata all'orgasmo inteso come gesto di pace la sua nascita infatti risale al 2006 su idea di due attivisti americani questa particolare giornata o meglio per dire nottata si svolge in concomitanza con il sostizio d'inverno e invita le persone di tutto il mondo ad avere un orgasmo pensando alla pace ea come questa sensazione fisica possa emanare vibrazioni positive su tutto il pianeta un gesto politico e pacifista insomma sulla scia del celeberro in moto fate l'amore non fate la guerra